Dottor Donadei, come mai avete deciso di partecipare a questo evento Milestone? Dunque, Sony ha un importante partnership con Milestone in Italia ma in tutti i paesi europei. Un importante partnership che ci ha portato innanzitutto a partecipare a questo evento. Abbiamo sviluppato negli ultimi mesi una feature molto importante chiamata Edge Storage e abbiamo una brochure, doppia firma, Sony e Milestone, che permette di inserire sui capitolati e su alcune opportunità importanti questa caratteristica fondamentale che lega Milestone e Sony. Questo evento è la prima volta che partecipiamo a questo evento. Devo dire che siamo assolutamente entusiasti considerando il numero dei partecipanti e la qualità dell'organizzazione dell'evento. Quindi il nostro feedback e il nostro parere su questo evento è assolutamente positivo. Grazie.